Ciao, sono Gabriele Nicu, Brand Ambassador Casio e sono qui per parlarti della linea CTX. Quella che vedete qui con me è la CTX 5000, uno strumento che ha 800 suoni, potete anche creare i vostri suoni modificando gli originali e salvarli nella memoria interna o su chiavetta. Oltre 200 accompagnamenti vi dà la possibilità di creare i vostri accompagnamenti e le vostre song registrando strumento per strumento. La CTX 5000 è equipaggiata con due speaker da 30 watt che offrono un'ottima amplificazione domestica, tuttavia se la volete utilizzare anche dal vivo potete usufruire di due uscite line out stereo per collegarla a un mixer o a delle casse aggiuntive. È uno strumento completo e leggero che vi permette in casa di registrarvi i vostri brani grazie anche all'ingresso microfonico che ha, quindi potete registrare sia strumento per strumento creandovi delle song che anche poi la voce. Ma va benissimo anche dal vivo sia grazie agli 800 suoni che al fatto di essere molto leggera e amplificabile. Seguimi nei prossimi video, conosceremo insieme le sue funzioni più interessanti.